Ora! Questo è uno dei posti centrali di Aonoi, la capitale del Vietnam. Faccio questo video che probabilmente avrei dovuto fare qualche giorno fa, poiché da che facevo un video al giorno all'improvviso sono scomparso e il motivo in realtà è molto semplice, ovvero che una volta che sono arrivato ad Aonoi il progetto Snake è finito. Non ci sarà più un video al giorno e tra pochissimo parto e quindi ne approfitto per dirvi che cosa succederà su questo canale da adesso in poi. Insieme a questo ci saranno altri tre video che saranno la conclusione di tutto il progetto, cioè il prossimo riguarderà la partenza e quello successivo invece sarà un grande riassunto di tutto quello che è stato fatto fino ad adesso. Poi cosa succederà successivamente sul canale? L'unica cosa che vi posso anticipare è che per quanto mi riguarda questo è stato un progetto fondamentale, che speravo potesse funzionare anche da un punto di vista di affluenza per YouTube, però così non è stato, ma va bene, poco ci importa, perché in realtà ci sono stati un sacco di lati positivi che poi però voglio descrivere per bene nel video riassunto di tutto. Quindi tutto questo per dire che è tutto per rassicurarvi del fatto che questo canale non morirà, anzi, tutt'altro. E quindi, sunto, una volta usciti questi ultimi tre video a conclusione del progetto, non ne sono molto sicuro, però probabilmente ci sarà qualche video sparso e poi l'intenzione è quella di partire con un altro progetto, un altro progetto che sinceramente se il progetto Snake vi è piaciuto, quello che verrà è tipo per mille e forse è anche il progetto definitivo del canale. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video che parlerà del ritorno in Patreon. Non mi prolungo, dalla capitale del Vietnam è tutto, ci vediamo alla prossima!